mi viene da osservare vuol dire manca completamente tutto l'ambito della sostenibilità che mi sembra sia un trend che oggi sta arrivando un po come un treno insomma sulle aziende è vero manca il trend della sostenibilità che viene ancora guardata per almeno la percezione che io come una specie di spada a doppio taglio un oggetto che non si capisce bene se trattare come qualcosa di benefico o come una minaccia alcune aziende sto vedendo che ci stanno facendo i conti e hanno colto da subito le opportunità che provengono dal fare sostenibilità perché diciamo ci sono diversi temi che si intrecciano infatti ti ringrazio per aver sollevato sollevato il tema ci sono diversi temi che si intrecciano Grazie a tutti